Buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Antropos. Questa sera torniamo a parlare di problematiche sociali. Ci occuperemo di un argomento molto importante, un problema anche molto serio che riguarda il nostro paese e tutti i paesi in genere, ma questa sera ci occuperemo soprattutto dell'Italia e cioè della situazione delle carceri nel nostro paese. Se ne deve parlare perché grandissimi sono i problemi che derivano dal sovraffollamento delle carceri stesse, dalla gestione delle tossicodipendenze o delle malattie importanti dei detenuti stessi come per esempio l'AIDS, per la gestione dei bimbi che dividono il carcere con le mamme, per la necessità di creare un collegamento tra i detenuti che si trovano all'interno delle carceri e l'esterno con il quale prima o poi bisogna poi tornare ad avere un contatto. Ne parleremo, parleremo di questo aspetto questa sera e parleremo anche di un felice intervento che viene fatto all'interno di una realtà come quella del carcere, parleremo di un bellissimo concerto che verrà tenuto, un concerto di musica che verrà tenuto la notte di Natale del 24 proprio nel nostro carcere a Torino e quindi parleremo dell'importanza, spesso noi ci occupiamo di musica e di opera lirica, ma questa sera vedremo come è possibile, lavorando con un certo impegno, portare fuori la musica e l'opera lirica dai grandi templi, dai grandi teatri sacri in cui spesso è chiusa e invece portarle in realtà molto più difficili e molto più complesse come quella di un carcere. Allora io voglio salutare i nostri ospiti che sono venuti qua a parlare proprio di questo, voglio salutare Giulie Ghibaudi che è responsabile di comunicazione del gruppo Abele, che si occupa proprio di attività, di recupero di questi ragazzi che si trovano in queste situazioni difficili e Angelica Frassetto che è presidente della Società Culturale Amici Lirici Torinese Francesco Tamagno. Come voi sapete la nostra trasmissione inizia con una scheda tecnica ad opera di Giorgio Di Aferia che presenta l'argomento, quindi due minuti e poi torniamo qua. La Società Culturale Artisti Lirici Torinese Francesco Tamagno si è costituita nel 1992 a Torino con lo scopo di promuovere un'attività musicale a carattere continuativo in modo da essere una presenza viva e operante nel panorama concertistico e operistico nazionale. Lo scopo della Francesco Tamagno è anche quello di divulgare e valorizzare il patrimonio musicale piemontese italiano e straniero, noto e meno noto, con particolare riferimento all'opera lirica, contribuendo in tal modo alla sua diffusione e conoscenza presso il grande pubblico. A questo scopo è stato organizzato un importante concerto musicale all'interno del carcere delle Vallette, questo per porre in evidenza la situazione delle carceri oggi in Italia. La popolazione detenuta in Italia è cresciuta negli ultimi 10 anni dell'80%, a fronte di spazi e strutture rimasti sostanzialmente invariati. Ci sono detenuti stipati in posti in cui si fa una sadica economia dello spazio, ad esempio appoggio reale dovrebbero essere 1.308 detenuti, ma ve ne sono più di 2.200, per lo più stranieri. Ad Asti il carcere costruito nel 1990 non è mai stato allacciato alla rete idrica. L'acqua è prelevata, grazie a dei pozzi artesiani, da una falda molto calcarea che danneggia tubature, caldaie, quindi docce, celle e cibi freddi. La priorità è data alla sicurezza, a scapito della vivibilità. Il personale è insufficiente, ad esempio gli psicologi praticamente non esistono. Per quanto riguarda il settore della professionalità organizzativa e delle relazioni direttive, l'organico previsto corrisponde a 633 unità e se ne contano solo 440. Il diritto alla salute dei detenuti è rimasto sulla carta dopo l'assegnazione dell'assistenza sanitaria in carcere alle Asle. Di tutte queste notizie noi parleremo con i nostri ospiti nella puntata di oggi di Antropos. Grazie a Giorgio Adieferia che ha dato un quadro molto chiaro dell'argomento che tratteremo. Dottoressa Ghibaudi, partiamo allora da una situazione molto complessa che dicevamo è quella delle carceri. Io ho dei dati che probabilmente sono vecchi, magari lei li ha più aggiornati o non so se sono precisissimi, ma io al 30 settembre 2011 a me risulta che i detenuti reclusi nei 206 istituti di pena sono circa 67 mila a fronte di 45 mila che è la capienza che invece è regolamentare per cui i carceri sono studiati. Questo che cosa comporta? Intanto comporta il fatto che, come già si diceva nel filmato, gli spazi sono compressi e molte persone vivono in spazi restrittissimi. In celle dove in genere dovrebbero esserci due persone, in alcuni istituti ce ne sono anche sei. Sono comparsi letti a castello fino al soffitto. Ma al di là della logistica, del fatto che comunque già gli istituti carcerari in Italia, molti degli istituti carcerari sono in situazioni faticenti, ma al di là di questo c'è proprio un problema legato al fatto che tanti detenuti, poco personale, carenza di risorse, il carcere di fatto non assolve più al compito a cui è stato chiamato. La nostra Costituzione, l'articolo 27, dice molto chiaramente che la pena deve tendere alla rieducazione, di fatto con queste condizioni la pena è solo afflittiva e non è rieducativa, tant'è che aumentano comunque i disagi che poi si traducono anche in atti di autolesionismo, in suicidi, in suicidi non solo però delle persone detenute, anche del personale di custodi, anche degli agenti di polizia penitenziaria. Perché il personale che lavora a stretto contatto con queste persone che vivono in uno stato di sofferenza, comunque poi cadono vittime della stessa sofferenza. Esattamente, anche loro sono sotto organico, anche loro cercano comunque di fronteggiare come possono la realtà che vivono, sono reclusi anche loro tutto il giorno. Pensate che rispetto al tasso di suicidi nella popolazione generale, se si pensa al tasso di suicidi della popolazione detenuta, quest'ultimo è di 20 volte superiore. Se si pensa al tasso di suicidio della polizia penitenziaria, questo è 3 volte superiore rispetto a quello della popolazione. Ecco, io in apertura non ho speso parole per il gruppo Abele, perché credo che sia superfluo, nel senso che il gruppo Abele è una struttura talmente, diciamo, è grande e talmente ormai avviata nelle strutture di sostegno, nelle attività di sostegno, tutti sanno quanto è valida, quanto è forte l'azione del gruppo Abele nell'ambito del sociale. Rispetto a questa problematica qua, io so che voi lavorate a progetto, lei mi diceva noi nel carcere ci muoviamo a progetto, allora si lavora su un progetto specifico che riguarda il sovraffollamento e quindi tutte le problematiche correlate o si cerca di combattere il sovraffollamento aumentando per esempio la riabilitazione fuori dal carcere? Cosa si può fare? Se esiste una popolazione tre volte superiore all'interno di un carcere, che cosa si può fare? Credo che le cose che si possono fare, che come gruppo Abele cerchiamo di fare, è proprio quello di facilitare il passaggio dal carcere all'esterno per quelle persone che possono accedere. Che possono farlo. Aumentare le attività lavorative fuori. Aumentare le attività lavorative fuori, dare disponibilità di accoglienza anche perché le persone che possono fruire di misure alternative alla detenzione restrittiva hanno comunque bisogno di un posto dove stare, dove poter scontare la pena in forma differente. Capisco benissimo. Presidente, allora Angelica Frasetto abbiamo detto che è presidente dell'associazione, della società culturale francese.